Il rinnovo contrattuale? Devo essere tranquillo, anche perché c'è un procuratore bravo, c'è la società che è tutta disponibile e penso che questo si risolverà. Devo essere a disposizione, concentrato a fare quello che sto facendo dentro il campo. L'attività di torno si gioia tra due mesi e mezzo, potrebbe falzare la sfida? Ci sono tantissime partite che manco pensiamo tra due mesi e mezzo che succederà. Adesso scordare la Coppa Italia e pensare nella Fiorentina che è una partita difficilissima da Funtac.